ciao ciao a tutti benvenuti in questa nuova diretta oggi si parla della big idea voglio vedere come la vendete voglio parlare con qualcuno di voi quindi aspettiamo che qualcuno si connetta forse dopo ci raggiunge anche il buon valerio conti con quale sto facendo ottimi lavori stiamo facendo grandi cose benissimo aspettiamo eventualmente che si connetta qualcuno mi raccomando il primo che arriva mi dica se l'audio si sente come da rito e poi cominciamo tra l'altro delle cose da far vedere ciao 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 bene bene mi dici solo se si sente l'audio ok ragazzi poi possiamo cominciare ok susi ciao ciao grazie grazie benissimo allora parliamo della big idea cos'è la big idea big idea è quello che io utilizzo per parlare del vostro prodotto e servizio in maniera più semplice perché non lo chiamo prodotto o servizio perché il prodotto servizio in di per sé una commodity qualsiasi cosa è una commodity cos'è una commodity è una cosa che se la compro a te o la compro ad un altro non cambia apparentemente nulla nel senso se io vendessi mai magliette bianche sono commodity ok come faccio a farle diventare non una commodity e incollo sopra un'idea un marchio un brand una soluzione differente ok questa è la big idea è quello che differenzia il vostro prodotto servizio dalla concorrenza fondamentalmente e in più aggiungo va a risolvere un problema specifico a un target specifico quindi la big idea è la cosa più importante che sta appiccicata al vostro prodotto servizio qualsiasi cosa voi vendiate qualsiasi cosa voi vorrete vendere nel senso non cambia nulla la big idea è quello che fa la differenza chiaro che a volte mi dicono marco non trovo la big idea non trovo la big idea ok è normale non è che è così semplice ok bisogna cercare di capire come vendere la tua big idea per esempio se vendessi semplicemente penne magari sarebbe difficile incollargli sopra un'idea però potrei aggiungere dei servizi insomma creare un pacchetto l'uovo di pasqua lo ricordate creiamo il nostro uovo di pasqua differenza degli altri di modo che le persone dicono guarda questo non è uguale agli altri perché in più da questo questo quest'altro ok ci siamo fino qui ci sono vari modi di vendere una big idea ok ovviamente la prima cosa da fare individuarla mi raccomando ecco per individuare la big idea so che molte persone vanno in palla su questo come dicevo prima su questo argomento quindi se avete delle domande approfittatene oggi scrivetemi sotto marco un problema con la big idea non ho una big idea non so cosa sia una big idea insomma interagite soprattutto schiaffate qualche bel like qui sul che non vedo piovere like come se come se non ci fosse un domani ok nel frattempo andiamo avanti benissimo ragazzi allora stiamo parlando di big idea cos'è la big idea la big idea è fondamentalmente un qualcosa che tu appiccichi a quello che tu vendi ok io vendo un servizio ci appiccico sopra una big idea ok per farlo diventare un servizio differente dalla concorrenza ci appiccico sopra creo sopra un uovo di pasqua ovviamente della kinder che ha seguito i miei corsi lo sa cosa vuol dire l'uovo di pasqua in sostanza è un involucro nuovo che tu dai un prodotto e servizio magari arricchendolo di qualcos'altro per far dire alle persone questo è differente non è semplicemente la penna in sé ma c'è un nucleo di cose che rende il prodotto differente ovviamente la big idea non può essere sempre venduta ok a volte bisogna rendersi conto che la big idea è sbagliata la big idea è sbagliata perché non hai margine non hai margine o fondamentalmente non hai mercato tutti i giorni ci sono persone che mi scrivono marco ho fatto l'invenzione del secolo allora gli inventori muoiono magri questo lo sapete e la big idea deve essere una cosa che ha un mercato specifico una concorrenza ma soprattutto deve assolutamente avere margine perché se non c'è il margine mi c'è state facendo un errore oh finalmente mi saluti davide a forza di dirti cazzo non mi saluti mai benissimo allora davide ci dice hai un nuovo prodotto alimentare da distribuire può distribuire poco conosciuto in italia famosissimo in altri state quali strategia b2b useresti la prima cosa che ti devi chiedere caro davide è qual è il mercato di questo prodotto poco conosciuto cioè all'estero qual è il mercato a chi si rivolge va bene poi tu però mi pensi mi stai parlando di b2b quindi tu vorresti vendere alla distribuzione giusto alimentare distribuire a distribuzione ok quindi in realtà devi ovviamente avere il target perché queste persone poi a loro volta dovranno andare a vendere questo prodotto a qualcuno quindi tu in realtà quando lavori al b2b in questo caso devi fare il lavoro per loro ovvero devi andare a vedere a chi queste persone venderanno il prodotto devi praticamente vendergliela come si guarda tu lo metti a queste persone qua con questa idea tac è già fatto cioè questa è l'idea di massima quindi tu devi fare già la vendita per loro nel senso che gli devi creare il mercato gli devi creare un'idea di vendita ok un target specifico una soluzione specifica quindi in realtà la cosa che devi fare qual è a chi si rivolge questo prodotto all'estero e poi replichi la questione qua andando a dire ai tuoi canali b2b questo si fa in questo mondo ora tu mi parli però di strategia ok non di canali quindi strategia sì questa io andrei a fare la vendita per loro semplicemente ti direi come lo venderei io ok oppure testerei la vendita io che ancora meglio una cosa che potresti pensare di fare lo vendo io ti faccio vedere i risultati di vendita un po' come si fa con i franchising l'avvio io ti faccio vedere a chi l'ho venduto come l'ho venduto e poi ti dico come replicare il processo questa in realtà è una delle cose che le persone quando vendono a b2b ovvero all'industria b2b significa business to business io che sono un'azienda vendo a un'altra azienda ok poi c'è il b2c che è il b2b business to customer che invece è vendo al consumatore finale cosa si intende per strategia b2b si intende con come vai a vendere questa cosa in realtà la vendita è molto semplice tu devi andare con una vendita simulata ovvero devi simulare quello che tu faresti se dovessi vendere in realtà se tu avessi già venduto avessi dei dati sarebbe molto meglio ma è la cosa più semplice al mondo è dire ok provare a testare fare delle ads vedere come reagiscono le persone replicando quello che fanno poi guarda tempo fa avevamo fatto dei test su delle salse negli stati uniti non andavano bene perché erano tarate sui gusti italiani quindi in realtà nell'alimentare nel food c'è anche un po questo problema a volte è difficile nel senso a volte non c'entra un cavolo perché cioè magari c'è un prodotto che in italia c'è e viene consumato ma è fatto in maniera leggermente differente poi però ci sono veramente dei gusti che cambiano tipo negli stati uniti va molto la roba speziata molto con tanto aglio tanta cipolla nel senso loro devono sentire la spezia si chiama kickback devono sentire quel piccante non sentire quella botta in bocca invece l'italiano è più delicato quindi in realtà nel nel food ci sono poi delle non sono un grosso esperto e tipo ti parlo per quella poca esperienza che ho in realtà non poca perché pochi sanno che io avevo un uno dei miei primi blog e si chiamava made in italy expert e io facevo da buyer per il prodotti made in italy da esportare all'estero che non è andata benissimo come esperienza poiché avevo sbagliato un sacco di cose sarà stato il 2010 che avevo questo blog però era bello il blog era interessante era molto frequentato all'epoca avevo un sacco di lettori e un blog in inglese benché non scrivessi bene in inglese però comunque mi ci sono buttato però insomma era stata una cosa carina cosa facevo io praticamente raccoglievo le richieste e fornevo tramite facevo soltanto la tramite tre preventivi su qualsiasi cosa tu volessi di made in italy quindi questa è una cosa che ho fatto un po' di tempo fa che non ho approfondito bene mi sarebbe piaciuto portarlo avanti ma proprio per questioni di gestione della cosa che non l'avevo gestita molto bene l'ho poi lasciata marcire anche perché era poco scalabile come la stavo gestendo quindi non non è andata avanti quella era la mia big idea per dire ecco la mia idea era tu qualsiasi cosa cerchi di made in italy non ti devi preoccupare niente devi semplicemente mandare una richiesta ti arrivano automaticamente tre preventivi e su quei tre preventivi tu decidi cosa acquistare era praticamente un lavoro da buyer no? e l'idea era forte perché comunque all'epoca non c'era qualcuno che lo facesse come servizio proprio pubblicizzato c'erano dei buyer che ti cioè i broker che ti trovano qualsiasi cosa ma in realtà non c'era un servizio dedicato secondo me poteva essere fatta molto meglio come cosa anche perché l'avevo spalmata un po' su troppo territorio non ero focalizzato magari avessi preso New York piuttosto che Miami invece che tutto il mondo mi ero partito sbuonone io sarebbe stato meglio comunque se ragazzi si parla mettete like intanto si sta parlando di big idea la big idea è quella cosa che tu appiccichi al tuo prodotto servizio per avere assolutamente per avere una differenziazione sul mercato non sto parlando di brand positioning non sto parlando di unique selling proposition ma sto parlando proprio di idea ok? queste sono cose che poi si possono approfondire magari in altre dirette e comunque la big idea è semplicemente quello che sta cercando il tuo target specifico lo sta cercando perché gli va a risolvere un problema e non è uguale agli altri nel senso non lo posso mettere sul piatto dire ah guarda lo compro dal Gino piuttosto che dal Mario perché costa di meno ok? come il buon Fulvio di Bianco Rosso e Verdone quando si ridava Magda per il prosciutto del Gino e del Paolo bene ragazzi quindi Davide hai capito? cioè dammi un segno di vita più che altro perché ho parlato mezz'ora dimmi se hai capito se hai dei dubbi qual è la vostra big idea? ok? la big idea mia era di non fare un cazzo nella vita ma poi in realtà questa cosa non l'ho portata avanti io alla fine mi sono messo a lavorare subito presto dopo la scuola potevo prendere in considerazione la big idea di non fare un cazzo però vabbè volevo avere più soldi in tasca degli altri mi è toccato fare anche questo bene ok perfetto sempre chiaro ok va benissimo come ti vanno le cose Davide laggiù? si vende? Davide ha un retail che si occupa di American Food giusto? se non erro ok in Calabria giusto se non ricordo male quindi si ragazzi la big idea è una cosa per cui può saltare tutta la strategia di marketing se non c'è se non c'è la big idea potete anche prendere può essere ok? che il vostro prodotto servizio non si possa vendere se non ha margine se non ha mercato e concorrenza c'è poco da fare con il marketing non trasformiamo la merda in cioccolato ma andiamo a intercettare cioè abbiamo una strategia intercettiamo un target e gli diamo quello che già vogliono ma se in realtà le persone non vogliono non si può persuadere le persone a comprare quello che non vogliono ok? ecco prendete questa frase che è molto bella poi magari se poi ci raggiungerà Valerio ve lo faccio spiegare meglio da lui che lui questo concetto lo spiega a benadito non è possibile far cambiare idea alle persone le persone non cambiano mai volentieri idea quando vendete qualcosa mettetevi nella condizione di dire ok è come se ti dovessi far cambiare squadra di calcio o religione quindi se vendo qualcosa che non è della tua squadra è molto difficile fare lo switch molto cioè molto difficile bisogna vendere alle persone quello che già vogliono che a fargli cambiare idea è difficile soprattutto se sono idee radicate lavoriamo stiamo crescendo stiamo cercando di soltare qualche strategia per crescere dal punto di vista della distribuzione dei prodotti americani in Italia mi sembra una buona idea mi sembra una buona idea Davide anche perché come ti dicevo prima il tuo punto retail può diventare un punto test un punto testing soprattutto se è un punto abbastanza strategico cioè dove è difficile vendere già in Italia è difficile vendere ok in generale però sì mi sembra una buona idea avere un punto test è importante perché tu ti puoi rivendere i test nel senso che tu puoi arrivare molto deciso dal distributore e dire guarda io questo l'ho testato funziona funziona così funziona cosa tu questo devi vendere così ed è un punto molto forte nella negoziazione se tu hai già dei dati di fatti quando si scrive una headline un incipitizio qualsiasi cosa quando si scrive un discorso nella parte iniziale ci vogliono sempre dati ci vogliono le prove ok le prove sono una delle parti più importanti di qualsiasi cosa che serva nelle vostre strategie prove le prove nell'headline ficcare subito una prova da dimostrare sempre con prove quello che porta benefici al target è di essenziale importanza quindi saper fare questo saper fornire le prove avere prove vere ovviamente è un elemento molto persuasivo che funziona tantissimo tantissimo va bene ragazzi parlo solo io schiaffate qualche like e qualche commento perché basta con sta storia che io faccio le dirette e parlo vorrei che poste voi a parlare io sto qua a ascoltarvi sarebbe molto divertente che tempo fa dalle vostre parti oggi Torino è incerto in sostanza metà piove e metà si fa i cazzi suoi e metà c'è il sole ok ritorno io oggi si parla di big idea ragazzi ma più che altro come vendere la big idea la big idea è un concetto perfetto ciao 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 anche simona simona ti sei cancellata ieri dalla lista della mia lista degli acquisti fai attenzione perché poi non ti arrivano più le mail giuste ok come si vende un'idea allora ne parla oggi appunto con valerio ci sono più modi puoi fare una vendita a salire lo dico in italiano oppure una vendita a scendere oppure una vendita circolare la cosa più facile è fare la vendita a salire nel senso che vendo un prodotto front end a prezzo più basso poi a psello a prezzo più alto questo cosa significa che ho meno soldi per fare advertising perché i soldi dei front end dei lead sono meno ma poi dopo guadagno molto sulla psel in realtà c'è anche un altro modo sì simona mi è venuto in mente perché ho visto perché sei in una lista particolare dove siete in pochi e mi è comparso subito all'occhio però non ti preoccupare cioè se puoi è ti rimetto oppure ti rimetti tu ti dico come fare c'è anche la possibilità di fare il contrario cioè una volta che tu hai individuato il mercato hai insomma il margine tutto quanto per fare per fare il tuo lavoro per prendere la tua big idea puoi scegliere se vendere o a salire o a scendere a scendere ma significa ciao Fiorella ciao Gino ciao ciao Fiorella come si sta a Napoli? ci sta a usurre e invece che San Gennaro si vede che sta scucciato ciao Gino come va Roma? tutto a posto la mano nella magliana è sempre la servi sempre tu fai sempre i giardini hai superstiti e come dicevo allora puoi vendere a salire quindi partendo da un front end un prezzo più basso prendi più lead ovviamente quindi prendi più clienti e poi vai ad aumentare il prezzo appsellando oppure fai il contrario cioè per dire adesso che ci sarà la mia academy cosa succederà io avrò come front end un prodotto high ticket ovvero alto poi possibilmente probabilmente con i soldi dell'advertising perché in quel caso avrò più guadagno cosa succede? che ho molto più margine per fare lead generation quindi avere un database più grande più curato e poi dal database faccio vendite più piccole perché non mi costa niente di advertising questo è un secondo modo quindi ve la rispiego meglio io in sostanza ho un'idea ok con questa idea ovviamente devo metterci soldi di marketing per fare le vendite giusto? quindi per catturare il lead fare lead generation e poi dopo vendere come si funziona? se ho poco margine non c'è possibilità per me di avere soldi da investire nel marketing per esempio vendo questa penna questa penna mi dà un margine di 20 centesimi io per fare advertising catturo un lead a 2 euro ogni 100 lead quindi 200 euro faccio una vendita in sostanza praticamente 200 euro spese in marketing per una vendita 20 centesimi di guadagno questo l'ho estremizzato ma è così in realtà se io vendessi una penna da 2 mila euro e avessi un margine di 1900 euro e ogni 10 lead faccio una vendita vuol dire che ho tanti soldi ok? ho tanti soldi da reinvestire in questa operazione per scalarla quindi in realtà se poi una volta catturati i lead messi nel database facendo email marketing faccio vendite di penne più piccole lì non avendo spese di marketing in realtà questa cosa che vi sto dicendo è abbastanza complicata ci potevo fare un corso e quindi beato chi mi segue perché ogni tanto si becca questa roba qui gratuitamente ah Tiziano in realtà non abbasserò il prezzo dell'academy mi sono spiegato male la riformulo l'academy è un corso completo ok? io venderò soltanto quello ma non è che poi al database io andrò a vendere il corso il corso principale quello in realtà io l'ho già venduto al database poi siccome non mi costa posso fare dei corsi aggiuntivi low ticket però in realtà quello non ho costi di marketing per farlo perché lo faccio dal database quindi posso anche fare delle cose più piccole io praticamente sto facendo il contrario di quello che si fa di solito è controintuitivo ma se ti ci posizioni funziona lo stesso ok? nel senso ti dicevi posizionare devi portarlo avanti quindi in realtà povero Tiziano sarai costretto a prendere l'academy a pagarla a prezzo pieno e poi dopo avrai anche gli upsell per avere quegli upsell allo ticket devi passare dall'i ticket funziona come cosa? ah è arrivato è arrivato Valerio ciao Valerio stavo parlando appunto del sistema di vendita a salire e a scendere ovvero passare da un frontend low ticket e arrivare a una ticket oppure partire dall'i ticket e portare poi dopo prodotti sul database nei low ticket che sarà poi la mia strategia che penso di utilizzare se volete fare qualche domanda c'è Valerio Conti Valerio Conti è il top number one dei copi in Italia è espertissimo nella scrittura persuasiva e soprattutto nella vendita di prodotti digitali cioè una roba molto figa faremo poi dopo tutte le nostre cose ok perché ora è chiaro con quella faccia Tiziano allora ma se fai se si fa un'offerta frontend molto conveniente per i lead non si rischia di attare un target basso che non acquisterà più a un prezzo più alto allora hai fatto una giusta osservazione ne parlavamo proprio oggi ok è vera questa cosa per dirti se tu vendi prodotti super high ticket non in frontend ok ma in backend quindi tu hai per esempio un corso di 100.000 euro parliamo di corsi e poi possiamo prendere qualcos'altro hai un corso di 100.000 euro in backend e hai un mini corso da 7 euro in frontend proprio per estremizzare è molto difficile che tu possa cioè probabilmente magari qualcuno lo vendi anche per dire mobe che arriva fino a 100.000 euro di upsell comunque parte se non ricordo male da 200 euro ok però poi sono 200 poi si parte subito da 2.000 10.000 50.000 100.000 mobe è una società di formazione americana che che si può che si può ci si può affiliare ok quindi si è molto molto conveniente è pericoloso rischi di portarti dentro la lista persone che non comprano però non è detto che se se sono vicini i prezzi nel senso da fino a 7 a 1000 insomma è già fattibile come discorso se tu imposti bene la tua strategia ce la fai ovvio che è molto più facile vendere a basso prezzo nel senso fare tante vendite piccole e in realtà puoi absellare no infatti non mi terrei mai troppo basso se tu già parti da un 50 euro fino a 300 euro non c'è differenza te lo posso dire proprio per esperienza se tu già parti da vendite da sopra le 300 euro vendere fino a 1000 non c'è differenza cioè ce la fai absellare anche di più perché le persone che già spendono 3-500 euro ne spendono anche 3-4 mila ok infatti lei dice fare un upsell non è più complicato rispetto alla possibilità di vendere un prodotto pieno puntando a una soluzione di una pep sì allora pep significa per chi non lo sa problemi inizio e passioni quindi parliamo di risolvere un problema sì allora quello che tu dici è un discorso che sta in piedi però in realtà è dimostrato in tutti i modi che qualsiasi strategia se fatta bene funziona funziona la strategia ascensionale discensionale ne parlavamo proprio guarda prima con Valerio che lui praticamente sono anni che si occupa di testare queste strategie anche per i suoi clienti e pure io le ho provate tutte io in realtà sono sempre stato posizionato ai ticket ho sempre venduto a consulenze costose per dire le mie consulenze da 8 a 13 mila euro l'anno io ho sempre solo venduto quelle prima praticamente non accellavo molto in realtà però mi veniva bene fare questa cosa è chiaro che se dopo qualcuno mi chiedeva di prendere un prodotto in affiliazione quindi di fare un una joint venture per vendere un prodotto più piccolo come succede spesso ho sempre fatto questa cosa un cliente che per me spende 13 mila euro mi basta una mail per dirgli spendine anche 100 per questo prodottino è molto è molto semplice però sì allora il modello ascensionale è quello più semplice quello più semplice che ti aiuta a fare un database più grosso è chiaro che se hai il gap di denaro è molto rischi poi di portarti dentro gente che non non fa nulla però di base dare contenuto gratuito e cominciare ad abituare con micro commitment micro ehm micro transazioni il tuo target funziona funziona in certi range è chiaro che se tu hai 100 mila euro di di back end ti sarà difficile fare micro commitment partendo da 7 euro non so se mi sono spiegato però in realtà quello è quindi il modello di dare gratuitamente tipo come sto facendo io adesso e passare da piccole transazioni come sto facendo io adesso io praticamente che vendo le ehm i webinar che sto vendendo a ehm come corsi a ehm cosa li vendo a 70 euro e se li prendi in promo li paghi meno se li prendi dopo li paghi di più ehm poi dopo ehm faccio i miei vari upsell ti vendo il prossimo ti vendo il pacchetto ehm tra poco finirà invece perché partirò al contrario cioè ci sarà l'academy e quindi io partirò da un modello inverso se vuoi entrare a far parte del microcosmo che gira dietro eh le informazioni che vendo io dove prima passare da lì essere un mio studente della social academy e poi essendo un mio studente della social academy ci saranno anche poi dei micro commitment cioè al contrario avete domande la questione interessante ci si potrebbe parlare su questo qua ci sono corsi che parlano di questo ma è una cosa eh molto ehm interessante un argomento molto interessante tra l'altro stiamo facendo stiamo vendendo un prodotto proprio in questi giorni con 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 Valerio non a voi questo prodotto lo venderemo lo metteremo in vendita a a voi più avanti adesso lo sto vendendo in altri in altri mercati diciamo che non c'entrano niente con voi perché stiamo anche testando vedere come possiamo farlo meglio ok allora Valerio interviene diciamo che fare un'offerta di front end low cost non ti fa rischiare di attraverare se ti posizioni in un certo modo come dicevo io ciò che conta è saper definire fin da subito la qualità che si possono aspettare da te dare valore in anticipo al mercato e qualificare un funnel che abbia una scalatura graduale giustissimo alla fine dei fatti funziona tutto vero cioè è dimostrato che funziona tutto ragazzi sia il modello in ascensione che quello di scendere quindi a salire e a scendere ok cioè partire da un super high ticket e poi discendi perché per chi non ti acquista salto costo tuttavia col secondo me è più difficile andare in error sull'advertising sì perché devi anche considerare l'advertising ok come dicevo io prima giustamente l'intervento di Valerio siamo allineati la pensiamo allo stesso modo e la penso anche io così cioè praticamente ragazzi tutto funziona se la strategia è buona soprattutto se la big idea è buona tu puoi decidere di vendere in qualsiasi modo quello che non funziona ragazzi è la staticità il non fare un cazzo rimanere a fare quello che avete sempre fatto qual è il vostro sistema di upsell qual è il vostro sistema di downsell cioè cosa state facendo per farlo cosa fate di cross selling cioè queste cose sono importanti se poi i vostri prodotti e servizi non si prestano a questa cosa ma vi danno a campare ecco perché l'accademy sarà buona lo stesso perché ragazzi famo un'altra cosa famo un percorso parallelo ok impariamo a fare qualcos'altro che vi servirà volete provare a vendere online fare marketing online informazione tutto quello che vi pare però quello che mi piace di come sto creando sta accademia è che o funziona per il tuo business oppure ti prendo da qua così ti strozzo con la carotide e ti dico ok non funziona parallelamente creiamo qualcosa che funziona cioè tu devi tirare fuori grana ora è il momento giusto di farlo ora è il momento di farlo perché i social sono in quel punto giusto dove tu puoi tirare fuori grana più facilmente perché non c'è ancora tutta sta concorrenza tipo in America che in America c'è una concorrenza della Madonna e lì costano carissimi fare advertising costa caro sei in un giro di concorrenza che fa paura e soprattutto è tutto moltiplicato per 20 quindi costi concorrenze problemi che tu puoi avere quindi se hai problema ce l'hai per 20 quindi customer care bla 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 quindi ora noi lavoriamo meglio in nicchie piccole come sono le micro imprese italiane sono piccole micro imprese e ce ne sono moltissime nel 90 mi sembra che il 95% siano micro imprese in Italia che lavorano in piccole nicchie noi siamo abituati così piano piano adesso stanno arrivando i pesci più grossi va bene ok se ci sono domande ragazzi sparate so fatelo adesso o tacciete per sempre se no oggi mi sembrate che in questo periodo avete il razzo moscio ve lo dicevo prima cos'è sta mosceria del razzo su ragazzi ci va energia sarà stato sto ponte che vi ha vi ha rovinato vediamo sto sull'appia ma sull'appia ci sono i travoni Gino sai sono quelle cose che mi interessano particolarmente non perché ci vado per carità ma sai sapere il la disposizione è sempre importante l'appia mi ricorda qualcosa nei film non mi ricordo se era per quello che te ridi tu Francesca Gatto tu lo sai lo sai tu e quindi ragazzi big idea la big idea è importante per differenziare il vostro prodotto servizio dalla dalla concorrenza è importante per avere un'idea di venderlo cioè per risolvere un problema che ha il vostro target ok quindi è un target specifico do una soluzione specifica tramite la mia big idea ok per farlo utilizziamo il format educativo bla 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 posso scegliere come vendere cioè come faccio a vendere vendo in maniera ascensionale discensionale quindi faccio un front end il mio prodotto di punta è il front end o il mio prodotto di punta è il back end vi ricordate quando vi faccio sempre l'esempio del cinema vi faccio sempre l'esempio del cinema che tu vai pensando che il cinema guadagni sul biglietto ma in realtà il cinema guadagna sulla somministrazione bevande il ristorante non guadagna tanto sui piatti non tutti però si guadagna molto di più sull'amministrazione degli alcolici sulla somministrazione alcolici hanno un guadagno molto alto quindi in realtà il ristorante è una vineria c'è il ristorante fa ridere però è così perché perché si upsell un qualcosa che non è pubblicizzato tu pubblicizzi praticamente qualcosa che ti fa guadagnare meno oppure tu potresti fare un tipo diverso di vendita vendere quello che è a alto margine ai ticket e poi upsellare qualcosa dopo siccome non hai i costi di marketing a prezzo o fare cross selling a prezzo inferiore cioè funzionano tutte e due le cose l'importante è avere una strategia che funzioni una strategia che catturi l'attenzione del tuo target specifico su quell'area che gli interessa perché le persone devono voler comprare a proposito di voler comprare volete vedere il mio nuovo libricino che è uscito si chiama Piazienti 2x questo qua non ce l'ha nessuno è in bellissimo questo qua però è in vendita è un corso che ho fatto per i dentisti è arrivato adesso sempre sulla sulla stessa sulla stessa linea bellissimo parliamo un attimo della canne ma funziona per la vendita online con alto margine o anche cose fisiche no allora in realtà l'academy sarà la social academy quindi la social selling academy significa che non importa cosa vendi in realtà l'importante è che tu abbia delle caratteristiche in quello che vendi che siano avere margine avere mercato avere concorrenza ok tu vendi cose a basso margine e quindi il tuo marketing si deve comportare di conseguenza cioè devi essere bravo a come dico sempre non è detto che se i tuoi prodotti a basso margine sono il front end il tuo business sia sbagliato se tu poi riesci a upsellare qualcosa che ti dà alto margine oppure riesci a prendere una membership un asset funziona per dirti io guadagno 10 centesimi sulla penna 20 dai 20 come ho detto prima ok per prendere un cliente spendo 20 euro a conti di marketing in realtà sei in negativo dirò ma se questa penna è una membership un asset continuo ogni due settimane mi comprano una penna nell'anno ci avrò guadagnato e come se ci ho guadagnato no nell'anno no sì devo fare i conti però comunque ci siamo capiti quindi ho comprato un asset e va bene anche se hai comprato un asset ma se fai una vendita una tantum a 10 centesimi e pretendi di fare marketing non ci stai non ci starei mai perché il lead non lo pagherai mai cioè non è anche il lead il cpc il costo per cliente non sarà mai 10-20 centesimi un cliente oggi tu lo paghi 200 250 euro 1000 euro dipende cosa vendi cliente significa che se il lead che ho preso tramite il mio marketing mi è costato 2-3-4-5-10 euro quei lead lì moltiplicati per la prima vendita fanno il mio il mio costo per cliente ok che devo saperlo però attenzione posso essere anche in perdita nel ROI se poi nell'anno compro un asset capito? oppure crei servizi aggiuntivi da upsellare crosssellare certo perché dopo tu poi non hai più il costo di marketing tu una volta che hai portato il cliente a comprare questa penna e gli dici comprati anche questa pinza su questa pinza tu non hai nessuna spesa di marketing è tutto guadagno netto in realtà qua il profitto devi scalare quello che tu hai speso nel marketing ma qua no siamo è abbastanza scientifica la cosa quindi bisogna sempre avere la strategia nell'accademy parleremo benissimo di questo sarà proprio completa ma vi dirò di più c'è una sorpresa fantastica per chi comprerà l'accademy il lancio perché poi il lancio non sarà un lancio sul che abbasso il prezzo il prezzo sarà sempre quello però do un super bonus che vi dico soltanto che dovete prendere la macchina per andare a ritirarvelo quindi che ve lo dico a fare va bene ragazzi quindi vi ringrazio vi saluto vi mando molti abbracci molti like cosa che dovreste fare a me adesso pompate un pochettino sto tasto per favore perché non ne posso più che sembra che i like siano a pagamento voi siete tirchi che già non strisciate la carta di credito per i miei corsi manco i like gratis mi mettete va bene ragazzi vi ringrazio grazie per seguirmi per stare meglio comprate comprate sempre quello che che vendo io perché vi farà stare meglio supererete i problemi di insonnia di cervicale comincierete a godere di una vita più sana più lunga proprio vivrete di più è un dato di fatto ragazzi bisogna accettarlo è come io accetto anche il fatto di avere di avere questi superpoteri voi accettate il fatto di poterne godere va bene ragazzi ci vediamo alla prossima puntata del mio live show vi piacciono i miei live show lo so che vi piacciono però mi piace sentirmi lo dire sai come quelle cose un po' da un po' da bambino che ti piace va bene grazie a tutti ragazzi buona serata io tra poco esco e mi vado a mangiare una bistecca enorme poi torno a lavorare perché devo finire con face fast che sarà il 15 maggio mi raccomando per chi non se l'ha ancora comprato a breve farò aprire il carrello di vendita face fast è il corso che ti permette di creare velocemente inserzioni per fare facebook che funzionino ok inserzioni facebook che funzionano quindi il metodo in 5 passi per creare un'inserzione velocemente che funziona togliendo tutta la la rottura di palle che non serve a niente va bene è il corso che si accompagna le arse non servono un razzo e quindi dovrete averli tutti e due questi corsi poi finiranno nell'academy ciao 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 palle quindi vi conviene prenderli a mo va bene ragazzi vi saluto vi ringrazio e soprattutto ricordatevi che la percezione forgia la realtà ciao ciao Grazie.